ciao fenomeni ciao a tutti oggi vi mostrerò una delle mie ultime invenzioni un attrezzo agricolo che al mio modesto parere è il migliore dell'anno 2019 dopo cristo e non mi sto riferendo ovviamente al mio fantastico badile di titanio rutenio rinforzato con fibre di tunsteno e manico in legno della discordia da bensì mi sto riferendo a questo attrezzo che renderebbe fertile anche il deserto dell'atacama con questo attrezzo posso sistemare il campo dopo averlo accuratamente vangato come adesso avrete modo di constatare voi stessi a tutti Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. No, Cristo, fai correre. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.